Giro qui e lì per le vie di Taranto raccogliendo le segnalazioni dei cittadini. Il mio numero è pubblico 339-244-240. Chi mi telefona, chi mi contatta attraverso WhatsApp, chi su Messenger e ci troviamo oggi in via Solito 2 a pochi metri da via Plateia. Vogliamo farvi vedere la condizione paurosa, pericolosissima del cordolo del marciapiede che è proprio situato posto dinnanzi all'entrata appunto del palazzo del Civico 2. Come vedete qui il cordolo è in stato di assoluta faticenza, addirittura fuoriesce l'armatura in ferro che poi è lo scheletro, regge su cui si ancora per così dire la parte cementizia del cordolo. Vedete qui si rischia davvero di inciampare, pericolosissimo. Ma non è solo questo cordolo, sono anche gli altri cordoli. E come vedete non è solo una questione di cordolo, anche di cordolo, soprattutto di cordolo, ma è tutto il tratto e tutta la pavimentazione, l'asfalto completamente dissestato, pericolosissimo perché qui ripeto davvero stiamo parlando di trappole perché tu scendi dal cordolo e ti imbatti in un asfalto o meglio in quel che resta di un asfalto assai precario. Ma basta fare pochissimi metri, qui i marciapiedi non conoscono, non hanno mai conosciuto mattoni, conoscono solo dell'asfalto sprofondato. E anche qui altri rappezzi, surrappezzi, buche, ulteriori rappezzi e come detto proprio l'aspetto più inquietante e l'aspetto più pericoloso è come detto il cordolo. Allora io dico, l'amministrazione comunale che sta cercando di ripavimentare varie vie cittadine dovrebbe appunto stilare una graduatoria per così dire di priorità. Perché qui stiamo parlando di priorità, non si tratta di un intervento come dire magari necessario ma non assolutamente indispensabile come per esempio è l'asfalto in Viale Virgilio che sarà anche necessario ma non costituisce una priorità, priorità invece che rappresentata qui da questa situazione di Via Solito. E penso soprattutto agli anziani, ai disabili, alle persone che in buona sostanza hanno problemi di deambulazione, chi esce con un ausilio, con un carrozzino. E qui veramente è una trappola, è una roulette russa, è un pericolo mai visto. Addirittura qui vediamo di questa armatura in ferro addirittura un pezzo, vedete, di questa armatura che sporge. Insomma vi ho voluto rappresentare una situazione, la presenterò anche in ambito del settore lavori pubblici ma credo che l'amministrazione non sappia stabilire una priorità di interventi perché sfido chiunque a dirmi che questo non è un intervento da collocare in via assolutamente prioritaria. Grazie. Grazie. Grazie.